WIRE WRAP WIRE WRAP è una tecnica usata nel passato per collegare componenti elettronici in prototipi e circuiti finali. Consiste in girare un wire con un strumento speciale su una pin, ottenendo un incontro caldo nelle zone di contatto tra il wire e il pin. Questa incontro è proof oxido e è veramente fondamentale. Adesso è senza usare, però può essere molto utile per l'experimentatore, come ha dato una connessione fondamentale e facilmente modificabile con un piccolo esforzo. Nel passato è stata portata da macchine speciali. Per l'accomplimento completo dell'ingegnero le instruzioni per wire wrapping a backplane che interconnessa i punti terminali dei circuiti. prima di tutto deve essere rilasciato che il circuito definitivo può anche essere creato con questa tecnica. Uno dei dispositivi più famosi in parte con questa tecnica è l'AGC che guidò l'apollo missione alla moon. I soccoli e i soccoli per wire wrap sono ancora trovati online ma in alcuni casi sono molto cari comparati con i soccoli normali. in questo video vi mostrerò come ho costruito i prototipi di wire wrap e anche alcuni trick sull'uso di connessioni Dupont. Per costruire con questa tecnica hai bisogno wire, tool, soccoli. Per costruire un circuito wire wrap non è necessario avere i soccoli appropriati che sono abbastanza cari. in realtà possiamo usare soccoli normali soccoli vero boards e pinstrips per soldiare in questo modo. Usando un vero board un soccolo e la pinstrips soldiare la pinstrips sul lato del soccolo farà il trucco. Qui puoi vedere il soldi sul vero board e la pinstrips sul top del board puoi vedere il soccolo e la pinstrips sulle edge del soccolo prendere un pozzo di wire e il extrips con il cibo prese attenzione a non damagesci il cibo dopo il tutto inserire il cibo in il cibo immagini place il cibo su una pin e rotare il cibo Vrappando il filo per la pinna. Alla destra puoi vedere un giunto. Alla destra puoi vedere un buon giunto, probabilmente perché si applica troppo pressione. Questi sono buoni giunti. Questa è un buon giunto che ho fatto con questa tecnica. È un buon giunto con un microcontroller. Puoi vedere le componenti del top del buon giunto e il ruolo sul basso. Una cosa che puoi fare con i pinni, è collegare i terminali Dupont su quello, dal tuo microcontroller. Questo è un buon modo di prototipare senza riuscire il microcontroller dal suo board prototipo, o per fare connexioni complesse. In questa modo, puoi cercare il vostro board prima dell'assemblea finale. Questa unità di controlla potrà controllare una macchina di ruolo per coili per metalli. Puoi programmare il microcontroller direttamente sul board. Puoi programmare il microcontroller direttamente sul board. Grazie!